Pozzuoli dice addio a Lia Visone, avvocato penalista, ex vice sindaco del Comune di Pozzuoli. Una persona ritenuta da tutti onesta, professionista, lavoratrice, che ci ha lasciato fin troppo presto. A dare l'addio è il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, attraverso un post su Facebook, dove afferma la notizia della morte di Lia Visone mi rattrista e mi addolora. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la nostra comunità. La sua azione amministrativa da vice sindaco di Pozzuoli è stata caratterizzata dalla passione e dall'attenzione costante per il bene della nostra città. Sono orgoglioso di aver condiviso con lei un percorso di impegno e di buona amministrazione alla famiglia. Giunga il mio più caloroso abbraccio, il gordoglio, della città intera. Il gordoglio arriva da tutti gli esponenti politici e non solo. Tra i tanti c'è chi afferma mai persona più dolce, semplice, educata e disponibile e professionale. Ho incontrato nel mio percorso, non ho parole per descriverti, ma lasci in tutti noi un bellissimo ricordo. Ci lascia quindi in questo caso l'ex vice sindaco, una persona stimata, una vera professionista, ma soprattutto una grande donna che ha lasciato un vuoto incolmabile nel comune di Pozzuoli.